ciao red dove sei di bello bravo senti un secondo è un amico tempo toccar come stas? come stas? bene, siamo a punto di conoscere una intervista mi piace molto saldarti e conoscerti per questo medio allora un momento io ho visto che non mi dispresti, non mi dispresti sto fregando questa volta e questa volta tu hai fregato meglio e tutto anche che mi stanno riprendendo come stai? se puoi da toccar? oi, è abbastanza gusto saldarti e conoscerti per questo medio si, ma gli hai detto che il cross si è occupato di qui si, si, gli ho spiegato red, gli ho fatto vedere anche per capire chieri il pezzetto dove interviene Kyber ah ok stiamo per iniziare purtroppo quei giorni che piove ma piove sembra il diulubo universale speriamo che migliori ok ok assolutamente si un abbraccio red ti faccio salutare Juan ciao ciao un abbraccio un abbraccio saludos ciao amico ciao ciao red ciao 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 ciao